Una domanda su Arte. Il Sindaco Bucci ha begato, ha dichiarato che per far funzionare le cose la gestione deve tornare in mano al Comune. A giugno scadrà il contratto, qual è la posizione della Regione? Guardi, non abbiamo nessuna difficoltà a restituire una delle aree più critiche della città al Comune. Non credo fosse esattamente l'intenzione del Sindaco Bucci perché oggi il Comune non ha un apparato in grado di gestire al posto di Arte. Questo non vuol dire che non si debba intervenire su due livelli diversi. Uno, rapidamente, in sinergia con il Comune, rafforzando il sistema di sicurezza di quel quartiere che è propedeutico ad ogni intervento di manutenzione, dato il livello generale di degrado ma anche di vandalismo presente nell'area, con investimenti nel medio periodo per riqualificare il quartiere e nel lungo periodo, credo, per riqualificarlo in modo completo con gli abbattimenti selettivi, con la riqualificazione urbana, con tutti i progetti su cui Arte e Comune stanno già lavorando. Quindi continueranno a lavorare insieme? Il Comune di Genova e la Regione continueranno a lavorare insieme, non solo a Begato. Grazie